Giuliano, 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 Giuliano! Sono passate da poco le 19 quando Giuliano Pisapia si affaccia alla platea di giornalisti e simpatizzanti riuniti al Teatro Puccini, suo quartier generale nel cuore di Corso Buenos Aires a Milano. Centinaia di persone accolgono con un boato i risultati elettorali annunciati dagli altoparlanti. Pisapia è nettamente in vantaggio sul sindaco uscente Moratti, la soddisfazione del candidato sindaco del centro-sinistra. Poi hanno capito che forse era possibile, poi hanno compreso che era probabile e poi adesso noi possiamo dire che è altamente probabile, ci manca una piccola corsa ancora e diventerà certezza. Grazie di tutto! Milano merita il cambiamento e noi cambieremo Milano. Grazie! No, volevo solo dire arrivederci prestissimo, ciao a tutti! No, chi conosce la città e si impegna per la città può avere riconosciuto il proprio impegno. se uno ragiona... Attenzione ragazzi, vi fate male! Questo ragionale! Grazie a tutti! Grazie.